Un drammatico episodio vede protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. La coppia, che ha recentemente annunciato la fine del loro matrimonio, è tornata al centro dell'attenzione mediatica a causa di un acceso litigio telefonico avvenuto durante il ricovero del rapper. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie. Pare che Fedez, durante il suo recente ricovero per un'emorragia interna, abbia contattato telefonicamente Chiara Ferragni, lamentandosi del fatto che lei non si sia presentata in ospedale. La conversazione si sarebbe rapidamente trasformata in una discussione accesa, con testimoni presenti che confermano la tensione dell'episodio. A far parlare ancora di più, una story su Instagram, pubblicata e poi cancellata dal rapper, che sembrava chiaramente riferirsi alla ex moglie. Nella story, Fedez scriveva Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d'ospedale. Una frecciatina diretta che ha subito scatenato reazioni tra i fan e i follower della coppia. Nel frattempo, Chiara Ferragni è sparita dai social network, cosa assai insolita per l'influencer. Il silenzio di Chiara potrebbe essere una risposta alle recenti tensioni o semplicemente una pausa dai riflettori. Dopo l'intervento, Fedez è tornato a casa dai suoi figli, Leone e Vittoria. Ha condiviso momenti di serenità e intimità familiare durante una piccola vacanza sul lago di Como, accompagnando le immagini con la frase Il tempo lenisce. Il rapporto tra Chiara e Fedez continua ad essere al centro dell'attenzione pubblica. Sebbene la loro priorità sia la protezione dei figli, Leone e Vittoria, è inevitabile che la loro vita privata diventi oggetto di speculazioni e gossip. Pare che Fedez non riesca a fare a meno di Chiara. E voi, da che parte state? Scrivete nei commenti qui sotto e mettete un like!